Come stai intanto? Bene, bene, grazie. Tutto bene? Prima di farti vedere un video, dite una cosa, ma siccome Fiorello ti ha fatto sto scherzo di Sanremo, che ci abbiamo anche un po' creduto, che tu faresti il direttore artistico nella prossima stagione del festa di Sanremo. Io stavo dormendo in realtà e mi sono svegliato con mia nonna che mi chiama e mi dice Federico ma ho scoperto che farai... Tu t'accontenta? E io mi faccio ma guarda non ero io nonna e sento, vedo questa intervista di Amadeus e riconosco la mia voce. Senti di Fiorello? Non ero io, è una persona, ma non è un mio imitatore. Uno che ha la tua voce. È una persona che parla esattamente come me. Però io ci ho pensato l'idea di Fiore è bella che tu faccia il direttore artistico di Sanremo, sarebbe bello l'anno prossimo dopo Amadeus. Convengo, a me piace. Secondo me, lanciamo qua un'idea, però Fiorello dovrebbe condurlo. Tu fai il direttore artistico e lui che è l'uomo della RAI, è l'unico che può salvare il paese, lui fa... Cioè è amico di Amadeus, è fratello. Allora, si passano il testimone. Ma sono d'accordo. Fiorello, non puoi sottrarti, tocca a te. Io l'ho fatto quattro volte. Amadeus, cinque. Tipo Paolo, settecento. Una la deve fare Fiorello. Non d'accordo. Sei d'accordo? Non assolutamente d'accordo. Qui tu, se lui fa il conduttore, tu fai il direttore. Io ci sono. Ragazzi, abbiamo fatto una roba pazzesca stasera. E' fatto tutto noi. Tutto noi. No, per dire che poi noi collaboriamo. Ecco, quindi non è che diciamo... Ma una domanda che ti ho fatto anche l'altro giorno dopo la registrazione, di Muschio Salvaggio. Tra l'altro grazie per avermi invitato. Sai che mi ha chiamato mio nipote, che aveva 23 anni. Mi ha detto, zio, non avrei mai pensato. Mi ha detto, ma ragazzi, ma cosa ho fatto? Se mi invita tutti i giorni, io ci vado. Non ho niente da dire. Ma perché non sei una persona che si concede molto all'intervista? Ma perché non ho niente da dire. Ma non è vero. No, ti assicuro. Mi annoio da solo. Hai raccontato un sacco di cose. Noiosissime. Vabbè. Vabbè. Comunque. Voglio sapere una cosa. Abbiamo visto queste immagini tue, no? Secondo te, l'immagine che le persone hanno di te corrisponde a quello che sei? Ah, bella domanda. Me l'ha data Gigi, Marzullo, me l'ha mandata. Bella domanda. Dipende dai periodi. Cioè, c'è fatto... Cosa vuol dire? È dipendente. Dalle stagioni. Perché l'opinione pubblica non è che ha sempre la stessa opinione dei personaggi pubblici, no? Cioè, ma di te pensano quello che tu vuoi, che secondo te corrisponde? No, non sempre. Non sempre. In che cosa? Però più che il pubblico, alcuni giornalisti, commentatori, fanno un'interpretazione della mia persona che non corrisponde a verità. E qui subentra un altro argomento di cui abbiamo parlato di te, che io molto spesso non riesco a trattenermi dal dare... Sì, dal dire quello che... Da rispondere. Perché mi sembra di subire stando in silenzio e invece... Adesso ogni tanto conviene. No, no, ma tu stesso e mia moglie mi avete insegnato che tacere e ignorare è a volte meglio. Però a volte è più forte di me. Cioè, tua moglie la pensa anche a me? Assolutamente. Perché lei è influencer e io non influenzo neanche in casa mia nessuno? A me, sai che non mi dà retta nessuno? Ah, non è vero. Te lo giuro. Senti un po', tu stasera io ho chiesto a Federico di fare anche un discorso importante perché insomma io ho molta stima e oltre che molta simpatia per Fedez perché insomma il successo lo abbiamo intuito da queste immagini ma chi conosce poi nella vita anche un inaspettato grande dolore senza entrare nelle vicende private naturalmente se ne può uscire o non uscire ma se si esce di solito se ne esce, non dico migliori ma sicuramente diversi. Posso credere in che cosa ti ha cambiato anche l'esperienza della malattia che così improvvisa è arrivata perché anche recentemente c'è stato quest'altro episodio? La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata, allenita e poi mi ha fatto capire tantissimo l'importanza della salute mentale e di quanto questo tema non sia circoscritto a un piccolo circolino elitario ma sia veramente un'emergenza concreta. Senti per arrivare alla salute mentale volevo solo dirti una cosa, sai che, due anzi, una è tu convivi con la paura o sei riuscito a mettere tra le spalle? Diciamo dopo l'ultimo episodio la paura è tornata. Abbastanza nel senso che non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita nuovamente ecco e quindi è un po' ci pensi, cioè è inevitabile pensarci. Ora proviamo ad attraversare con leggerezza questa cosa che sto per dirti ma insomma a mi ha molto colpito perché io avevo con lui un rapporto bellissimo e è venuto molte volte, insomma ci conoscevamo da tantissimi anni e parlavamo di cose molto intense, mi sto riferendo a Gianluca Vialli che è venuto tante volte anche in questa trasmissione ma al di là di questo insomma ci dicevamo cose importanti soprattutto nell'ultimo periodo e tu hai avuto una telefonata con lui che non l'avevi mai conosciuto? No, mi fa, mi fa, è una cosa surreale perché io lo vedo mi viene da piangere ma io non l'ho mai, eh vabbè lo so, però io non l'ho mai visto di persona. Però lui disse qua, in un momento, disse in uno di quei momenti in cui si è sinceri sinceri per forza, no? Disse questa esperienza mi ha fatto diventare una persona migliore. Io, insomma ci vuole grande forza per dire questa frase perché insomma uno può maledire la malattia, può accettarla, razionalizzarla oppure no, insomma è tutto lecito, può raccontarla o non raccontarla a nessuno, quando sei in quelle situazioni vale tutto. E tu però hai detto, lui ha detto questa cosa, cioè mi ha fatto diventare una persona migliore. Tu ecco in questo senso pensi di aver tratto qualcosa di positivo da questa esperienza? Mi piacerebbe dirti di sì perché sarebbe una storia lieto fine ma la verità è che no. Purtroppo dopo la malattia ho avuto altri problemi legati alla salute mentale quindi io purtroppo non sono ancora migliorato come persona ma ci sto lavorando però volevo dire una cosa di Gianluca. Io quando ho scoperto di avere questo tumore al pancreas ovviamente cerchi dei pareri medici ma cerchi anche delle esperienze umane con cui empatizzare, cercare di capire a cosa vai incontro e io l'unica intervista che trovai rispetto a questo tema era l'intervista di Gianluca. Ho avuto la grande fortuna di avere delle conoscenze in comune e la sera prima di essere ricoverato stiamo al telefono parecchie ore ed è incredibile come una persona che in quel momento lui stesso stava vivendo una tragedia, un dramma riusciva a ritagliarsi del tempo per dare conforto a una persona che non conosceva minimamente e questo la dice lunga su chi fosse Gianluca umanamente. Senti Federico hai detto che ho interrotto prima perché volevo proprio prendere il tempo giusto perché hai parlato di disturbi mentali. Tu ti stai da molti anni impegnando e sapete che non c'è niente di peggio che tentare di aiutare e fare del bene nel senso che si viene ricambiati sempre in modo tremendo ma Fedez e sua moglie insomma hanno una fondazione la fondazione Fedez, aiutano Onlus, si occupano di salute, non dimenticherò mai quel campo da basket trasformato in reparto Covid al San Raffaele di Milano con i soldi, con l'aiuto concreto che è riuscito a raccogliere Fedez e che guardate questo era il campo da basket dell'ospedale San Raffaele. Noi ci siamo dimenticati che cos'era in quei giorni ma qualche giorno fa partecipato all' inaugurazione di un centro TOG, Associazione per le malattie neurodegenerative dei bambini ma da questo è Federico. Tu hai detto che ti vuoi proprio impegnare molto dedicandoti al problema della salute mentale. Ci puoi spiegare esattamente in che cosa consiste il tuo impegno e che cosa significa quando dici salute mentale, a che cosa ti riferisci? Allora diciamo che tutto parte da quando sono stato dimesso dall'ospedale. Una mia amica mi dice secondo me tu dovresti raccontare la tua esperienza a un giornalista, l'Allo Cazzullo e dovresti raccontare anche la tua esperienza rispetto all'assunzione di antidepressivi, psicofarmaci e tutto ciò che è stato. Ed è stata una scelta giusta, nel senso che dopo quell'intervista che è stata letta da milioni di persone, è andata molto bene diciamo, ho iniziato a capire quanto questa cosa fosse un'emergenza a tutti gli effetti. Voglio dare un paio di numeri. I dati Istat ci dicono che gli adolescenti appartenenti alla generazione Z, la Gen Z, sono due milioni che soffrono di problemi di salute mentale. L'OMS ci dice che la seconda causa di mortalità tra gli adolescenti è il suicidio. L'Istituto Superiore della Sanità ci dice che in Italia ci vorrebbe uno psicologo ogni mille abitanti e in Italia abbiamo meno di tre psicologi ogni centomila abitanti. E poi c'è il rapporto dell'AIFA che è il più, diciamo, secondo me il più problematico, che dice che tra i venti farmaci più prescritti in Italia coperti dal sistema sanitario nazionale, sei sono antidepressivi o ansiolitici. Questo cosa significa? Che tutti questi dati a chi ci governa sono pervenuti, ce li hanno in mano, sanno benissimo cosa vuol dire. Stiamo parlando di un'emergenza tangibile e concreta di cui nessuna persona con potere decisionale in questo paese ne parla, cioè non è proprio al centro di nessun dibattito politico. Tutte le cose che non si vedono. Esatto, allora io volevo cogliere l'occasione di questa intervista per dire una cosa. Lo scorso governo ha stanziato per il bonus psicologo 25 milioni di euro che hanno coperto solo il 10% della domanda, quindi il 90% delle persone sono rimaste con la bocca asciutta. Con la nuova finanziaria questo governo ha deciso di tagliare questi 25 milioni che erano comunque insufficienti e di portarli a 5 milioni di euro. Quindi io quello che vorrei chiedere sommessamente al Presidente del Consiglio, a Giorgia Meloni e a Giorgetti è non tagliate questi soldi nella nuova finanziaria perché significherebbe sputare in faccia delle famiglie che ne hanno bisogno. Per quanto riguarda invece il mio impegno su questo tema è che con la mia fondazione l'obiettivo, il mio sogno che ho maturato e che vorrei portare avanti è quello di aprire un centro di aggregazione che fornisce assistenza sanitaria gratuita a adolescenti e giovani con problemi di salute mentale. Guardate che è un tema enorme. Prima il Professor Mantovani parlava di percentuali di obesità infantile nel nostro Paese enorme. Quante volte con Chiara Mirante della Comunità Nuovi Orizzonti nei suoi libri, intanto ne è uscito uno anche adesso, abbiamo parlato di adolescenti e ragazzi che sono vittime di qualunque tipo di dipendenza, dalle droghe al sesso, appunto a disturbi mentali di vario tipo ed è una solitudine che non ha fine e se di questa solitudine non ci si occupa davvero si rischia una deriva di proporzioni inimmaginabili. Gli abusi sui minori sono una quantità abnorme. Io trovo che il fatto che Federico, che Fedez abbia questa volontà e questa voglia sia non solo incommiabile ma che sarebbe bello che riuscissimo ad aiutarti tutti in qualche modo. Sarebbe bello ottenere qualcosa di concreto anche perché nel 2024 festeggeremo i cento anni di Franco Basaglia che è stato veramente una persona che ha combattuto per rompere lo stigma verso la salute mentale. Ecco sarebbe un ottimo regalo nella memoria di Franco Basaglia. Se questo governo facesse qualcosa in merito. Tu da tempo poi usi la tua notorietà per combattere battaglie sui diritti civili o come questa sera stai facendo rispetto a problemi sociali di questo tipo. Questo naturalmente crea anche qualche problema rispetto ad amici e nemici no? Tantissimi c'è. Però tu? Beh non è sempre facile e credo, rispetto a questa cosa credo anche che chi fa informazione, che i giornalisti abbiano una responsabilità rispetto allo stigma della salute mentale. A me mi è capitato in un periodo in cui diciamo non ero proprio informissima mentalmente che una giornalista, che adesso non è più giornalista ma ai tempi era giornalista, mi additasse tramite degli articoli come un narcisista patologico dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, ma sappiamo che una giornalista non è un medico, ma utilizzando quel narcisista patologico come sinonimo di pezzo di merda. Scusami il frattempo. No, si è figurato. Però capisci che una persona che con le parole dovrebbe saperci avere dimestichezza, utilizzare una patologia come sinonimo dispregiativo di una persona e fare diagnosi così ad cazzum, la trova una cosa su cui fare un minimo di attenzione. Ecco, sono totalmente d'accordo, le parole sono importanti, sono importanti. Va bene, ascolta, a proposito del narcisismo ti volevo far vedere un video e chiediti una cosa che io ho sempre, però io sono della generazione in cui a scuola le compagne di classe avevano il diario segreto, cioè c'era il diario con Lucchetto. Credo ci sia anche adesso, credo. Sì, ma sono separati, cioè c'erano i lucchetti dal ferramente, i diari, il cartoleria, cioè insieme no. E ci sono i social adesso, se uno non fa vedere quello che mangia si sente... Ma non tutti, è una questione di scelte. Quest'è una questione di scelte, infatti della tua, e sono curioso, però prima di affrontare il tema devo darti una brutta notizia, mi dispiace molto, mi ha scritto Fiorello. Grazie Fabio, ma quanto ti diverti, sapendo come la penso, con la mia ansia, non potrei mai, quindi siccome tu hai legato la tua candidatura alla sua, non puoi fare... Ma questo lo posso scintare. Eh no, caro, dovevi pensarci prima, eh no. Se lo dicevi prima, come diceva Giannacci, e se lo dicevi prima, niente. No, però Fiorello io voglio insistere, tu devi farlo, tu sei l'unico, ma per affetto io so che tu per Amadeus ti butteresti dal piano terra, però devi farlo, devi assolutamente farlo, sei l'unico che può salvarci da questo impasse e quindi devi farlo. Va bene, chiudo, tanto adesso è andato a dormire. Va bene, va bene, no, il filmato era per dirti, ma il fatto di aver, avete deciso di far vedere tutto di voi? Beh, nasciamo come personaggi pubblici, poi si... E non ti mette ansia che tutti sanno tutto? Ma no, dipende da cosa vuoi far vedere, sei tu che decidi quello che vuoi far vedere. Aspetta, diciamo che ci sono delle cose private ancora? Certo, sì, sì. No, per sapere, per curiosità. So che stupisce questa risposta. No, io morirei, per esempio, a me. So che stupisce questa risposta, ma sì, ci sono delle cose private. Ok. Tutto ciò che raccontiamo, sia sui social network, come la grande maggioranza delle persone, sia tramite la serie, sono tutte cose che comunque decidiamo noi di raccontare. Quindi, per esempio, rispetto al racconto della malattia, sul quale, diciamo, molte persone mi hanno accusato di essere un pornografo del dolore, ecco, io non sono di questo avviso, poi ognuno ha la sua sensibilità, per l'amor di Dio, ma io sono convinto che innanzitutto nel momento in cui io ho vissuto quella problematica, per me riprendermi era una forma di distrazione. Ma poi in quei momenti vale veramente tutto, ci sono tutte le scelte. Soprattutto credo che quel tipo di testimonianza per chi sta affrontando un percorso simile può essere qualcosa che ti svaga, può essere qualcosa con cui immedesimarsi, può essere qualcosa che in qualche modo, seppur minimo, può essere d'aiuto. Vale tutto. Senti, vuoi dirti una cosa? Allora, visto che Sanremo non lo fai perché è saltato tutto per colpa di Fiorello, per colpa di Fiorello tra l'altro coinvolge anche lui Fiorello, è distrutto. Vittima di Fiorello. No, però giusto perché siccome sei andato l'anno scorso a Sanremo, no? Te lo ricordi? Eh sì, purtroppo. No, dico quest'anno non torni. No, no. No, no, perché già questo è importante saperlo, perché almeno stiamo tranquilli quella sera lì. Fate tranquilli. Sicuro? Non è che ci ripensi? No. Neanche Chiara? Neanche Chiara. No. Cioè, beh, Chiara parla per lei, per l'amor di Dio, non voglio... No, per carità, però diciamo... Io non ci suono. Tu non ci vai, benissimo. Senti, un'ultima cosa volevo dirti. Siccome dovevi andare a Belve, non sei andato... Sì. Ti faccio io la domanda. Cioè, quale... No, sai che c'era la canzone di Yannacci, si potrebbe andare tutti quanti all'azio comunale per vedere di nascosto le bestie feroci e chiedere aiuto? Aiuto, è scappato il leone per vedere l'effetto che fa. Ecco, tu quale bestia feroce vuoi... No, Belve, scusate. Scusate l'ignoranza. Ho sbagliato, è uguale. Eh, ma adesso dicevi prima. Allora, quale bestia feroce... Sai che me l'hai anche detto che mi facevi questa domanda e non mi sono preparato la risposta. Sai che non te l'ho detta? No, me l'avevi detto. No, non te l'ho detta. Me l'avevi detta? No, non te l'ho detta. Beh, allora l'avevo messo in conto... Ponto, quello sì, perché sono ragazzo... Vabbè. E non ho... Allora fai così, te la rifaccio e tu di vengo anch'io. Ok, vai, vai, vai. Quale bestia feroce vuoi essere? Vengo anch'io. Eh, vabbè, però dobbiamo rifarla. Dobbiamo rifarla, scusa, eh. Quale bestia feroce vuoi essere? Vengo anch'io. Vengo anch'io. No, tu no. Fedezze. Grazie, a che tempo che fa. Vengo anch'io.